Sono Andrea Celli, sono un ricercatore associato, che vuol dire che sono un pensionato, ma continuo a collaborare con l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR di Roma. Mi chiamo Andrea Celli, sono un ricercatore associato, che vuol dire pensionato, ma che continuo a collaborare con l'Istituto. Applicazioni del Calcolo, Mauro Piccone del CNR di Roma. Come titolo non sono stato molto originale, ho preso un titolo di giornale del dicembre del 1955, che annuncia che il Presidente della Repubblica, all'epoca era Giovanni Gronchi, prenderà parte alla presentazione del cervello elettronico di Roma, che suona l'Aida e scrive lettere d'amore. Ah beh, scusa, ho il terrore sempre di coprire lo schermo. E questo è uno dei primi computer, forse il primo computer che arriva in Italia, che è in grado di fare qualcosa che è un po' oltre i calcoli veri e propri, quindi la parte più tecnico-scientifica. Però, siccome la mia passione è un pochettino la storia, vi ripiglio un po' la storia dall'inizio. D'altra parte, ok. Quando avrò imparato? E quindi incominciamo con un po' di pre-storia. Il pre-storia parte un po' dall'inizio del Novecento, quando incominciano a diffondersi le prime macchine calcolatrici meccaniche. Sono oggetti che, adesso farebbero un po' ridere, perché ce l'abbiamo sul telefonino della calcolatrice che fa tutte le quattro operazioni. Ma allora erano oggetti estremamente innovativi. Prima c'era solo il calcolo fatto a mano. Nella loro semplicità erano in grado di fare una moltiplicazione in circa un minuto. Il bello è una persona. Una moltiplicazione di un numero di dieci cifre per un numero di otto. È una cosa abbastanza notevole. Però la diffusione era limitata dal fatto che una macchinetta di questo genere costava sui qualche migliaio di euro, in termini attuali. Quindi incominciavano ad esserci e essere abbastanza diffuse, ma non uno strumento di massa. La storia per quello che riguarda il mio istituto parte, un po' la prima guerra mondiale, con Mauro Piccone, che è il fondatore. Mauro Piccone era un matematico siciliano, era nato nel 1885 a Palermo. Poi si trasferisce da bambino in Toscana, studia alla scuola normale superiore di Pisa, dove si lavora con il massimo dei voti. Per un paio di anni fa l'assistente lì a Pisa, poi all'incarico di insegnamento qua all'Università di Torino di analisi matematica. vince un concorso a cattedra, sta smettando la chiamata da parte di un'università che avesse il posto libero da assegnargli, e invece la chiamata dall'università gli arriva la chiamata alle armi, perché siamo nel corso della prima guerra mondiale. Nel 16 parte per la prima guerra mondiale, per il fronte del Pasubio sulle Alpi. E lì c'è un cambiamento nel suo atteggiamento verso la ricerca matematica. Fino a quel momento era stato un matematico molto teorico, la sua tesi era di geometria algebrica, cose un po' da pazzi, però anche avete, e al fronte gli danno l'incarico di fare degli studi di balistica per l'uso dei cannoni pesanti in montagna, di cui l'esercito italiano aveva assoluto bisogno. Adesso la cosa a noi interessa relativamente, ha avuto grosso successo militare, tutto quanto diventerà questa promozione. Quello che interessa a noi è che lì sotto le armi riesce a organizzare un ufficio balistico sotto forma di quello che adesso chiameremmo un centro di calcolo, un centro di matematica applicata e computazionale. quindi ha una serie di, ha 5 o 6 collaboratori che sono ottimi matematici, ingegneri fisici, ha a disposizione 5 o 6 calcolatrici, tipo quella che ho fatto prendere prima, e ha a disposizione un gruppetto di calcolatori, ossia di matematici, di militari addestrati ad usare le calcolatrici. Il termine calcolatore vorrà dire quello fino agli anni Sessanta. L'istrumento di calcolo invece era una calcolatrice. E con questo qua ha un primo prototipo di quello che può essere un centro di calcolo per la ricerca scientifica. E la forza di Picone è di non firmarsi a finire questa esperienza, tornare a casa come se niente fosse, ma di capire che questa esperienza è qualcosa che può essere trasferita nella vita civile e che può essere ancora più utile nella vita civile che in quella militare. Quindi questa esperienza può essere quella di guida per scienziati, ingegneri fisici, ma anche per l'industria, per le imprese di costruzione, per la costruzione di ponti, dighe e grosse strutture, per il mondo bancario e finanziario. e quindi appena torna in università riesce ad avviare i primi corsi di calcolo, si chiamavano calcolo numerico e grafico. Prima a Pisa, poi a Roma. Poi si trasferisce, a un certo punto cambia di università, va a Napoli. A Napoli ha un ambiente particolarmente favorevole, riesce a costituire un piccolo centro di calcolo all'interno dell'università, riesce a ottenere un finanziamento del Banco di Napoli e fare quello che adesso chiameremmo uno spin-off, forse un po' il primo spin-off per la storia, e trasformare questo centro di calcolo in un istituto autonomo. Questo istituto autonomo è appunto l'istituto per le applicazioni del calcolo. E' in assoluto il primo al mondo del suo genere. Per avere qualcosa di simile bisogna aspettare un 4-5 anni che Artry fa un istituto simile in Inghilterra. L'istituto si ferma per 4-5 anni a Napoli, poi Marconi assume la presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche e convince Piccone a trasferire tutto a Roma, dove diventerà istituto nazionale per le applicazioni del calcolo. Il sigla INAC, che abbiamo ritrovato nel nome del calcolatore, FINAC, il calcolatore di Roma. Qui si danno consulenze a scienziati italiani, c'è una fortissima collaborazione con Fermi, ma anche assorbatori astronomici tedeschi, l'elenco sarebbe lunghissimo, ad aziende di costruzioni, al centro di ricerca dell'aeronautica di Guidogna. E' un grosso successo che ha anche un ritorno economico, perché le consulenze per l'università e la ricerca erano gratuite, le collaborazioni con l'industria e il mondo finanziario erano a pagamento. Questo permette a Piccone di assumere moltissimi giovani ricercatori, tra l'altro dimostra un fiuto incredibile nel scegliere i più bravi, per cui la maggior parte dei migliori matematici che usciranno in Italia, italiani e non solo italiani, negli anni tra i 30 e i 40 e i 60, fin quando Piccone restativo, vengono proprio fuori dall'IAC. Ovviamente poi investe anche nel sviluppo di mezzi di calcolo. A questo punto, queste sono le foto dell'IAC nel 40, dove appunto vediamo le persone al lavoro, ogni ricercatore ha una calcolatrice sul tavolo. Una cosa notevole di questa foto è che su nove persone che vediamo ben quattro sono donne, il che per l'epoca era una percentuale decisamente elevata, non era trascurabile. Queste qua sono un po' di macchine che si utilizzavano. Le prime due sulla sinistra sono un po' l'evoluzione di quella che avevamo visto inizialmente nella prima foto. Quelle altre sono macchine americane degli anni 30, che sono elettriche. Quella in basso è una curiosità che c'era in istituto, era più per l'amministrazione che per la ricerca, perché era solo una dizionatrice, ma è una macchina prodotta da Ducati, quella che adesso fa le foto, che allora faceva radio e cose elettrotecniche di questo genere. A questo punto la vita cambia. L'istituto che era nato sul calcolo meccanico, proprio a monovelle di strumenti meccanici, si trova di fronte alla nuova evoluzione che sono le grandi macchine calcolatrici automatiche. Queste grandi macchine calcolatrici automatiche nascono soprattutto nei paesi dall'altra parte, quindi a Glossassone, nei paesi alleati, mentre i paesi dell'asse Germania e Italia sono praticamente tagliati un po' fuori da questa evoluzione. Le prime macchine sono Arele, purtroppo nessuno ha visto il seminario prima di Enin che faceva vedere come si può costruire una macchina di calcolo utilizzando i Relay che sono quelli che servono per accendere la luce quando avete più di tre interruttori, no? Vede tac tac. Però questo permettevano di costruire le prime macchine Relay. Quella che vediamo lì nella foto è proprio una macchina Relay, è l'Harvard Mark I, realizzata da Eichen, all'Università di Harvard nel Massachusetts. E quel ritaglio lì è particolarmente interessante perché è quello che dà il via all'evoluzione dell'istituto. Perché in Italia nessuno sapeva niente di questo. Piccone, vivendo a Roma, che viene conquistata dagli americani nella primavera del 1944, è il primo ad avere un contatto con il mondo anglosassone. E questo ritaglio qui è un ritaglio che fa il Piccone stesso dal giornale delle forze armate americane dell'estate del 1944 in cui si annuncia la più grande calcolatrice matematica del mondo, una calcolatrice del super cervello che risolve qualsiasi problema matematico. E questo fa accendere la lampadina che bisogna muoversi verso uno sviluppo dei calcolatori, l'acquisizione dei calcolatori anche per lì. Quindi Piccone subito finita la guerra incomincia a darsi da fare. Già nel 1945 incomincia a tempestare tutti gli americani che conosce e dice mi fate vedere il vostro calcolatore. E quelli gli rispondono beh sì te lo faremo vedere, ma è stato contratto con l'esercito e l'esercito non vuole farlo vedere a paesi stranieri, soprattutto l'Italia è che c'è una situazione politica un po' incerta. La cosa cambia, anche se nessuno lo dice, quando la democrazia cristiana vince l'elezione nel 1948 e l'Italia entra a far parte della Nato. Subito le risposte sono molto più cordiali, sì, se vieni in America te le facciamo vedere. L'occasione nel 1950 che c'è un grosso convegno di storia di matematica dell'Unione Matematica Internazionale proprio a Cambridge, dove è stato fatto quel calcolatore e Picone, Apparo e Dainelli che sono dell'IAC, più Canepa dell'Olivetti, un ingegnere elettronico dell'Olivetti, partono per Cambridge e vedono un pochettino tutti i calcolatori che stanno sulla costa orientale degli Stati Uniti. Qua vediamo Apparo e Dainelli con Ida Rhodes davanti alla sede del calcolatore del National Bureau Standard Washington. Ida Rhodes è un po' la madrina dell'informatica americana. La cosa importante è che Canepa, il Picone presenta Canepa ad Iken, il capo di Harvard, e che lo aggrega al team che sta sviluppando l'Harvard Mark IV, che è un calcolatore, a differenza del primo, è un calcolatore completamente elettronico. Canepa si ferma, lavora per due anni a Cambridge e nel frattempo abbiamo le lettere tra Picone e Iken, in cui Iken dice, sì sì, Canepa è bravissimo, sta facendo benissimo la sua parte, sì sì, bravissimo, non solo fa la sua parte, lo tengo sempre, lo metto a tutte le riunioni in maniera che capisca tutto lo sviluppo complessivo del calcolatore e quindi abbia coscienza della sua parte, sì, breve, ok, Canepa ha fatto il suo lavoro, adesso è perfettamente in grado di costruire un calcolatore in Italia, se appena torna, se poi volete fare variazioni, ci sono problemi e cose del genere, scrivermi che vi do una mano. Quindi nel 52 l'istituto aveva tutta la capacità tecnologica per costruire il primo calcolatore italiano e il problema qual è? Ah beh, Olivetti, che ovviamente è il capo di Canepa, l'olivetti viene a Roma, c'è un incontro in cui il succo è che Olivetti è disposto a mettere a disposizione l'impresa, l'olivetti, Canepa e anche un po' di soldi per andare avanti, però diceva il finanziamento pubblico come stiamo e lì purtroppo il piccone deve un po' allargare le braccia perché al CNR si sta litigando, si sta litigando come degli andati tra i due partiti dell'epoca, il partito del make, quindi costruiamoci noi un calcolatore, contro il partito del buy, compriamo un calcolatore già fatto. Il calcolatore già fatto ha il vantaggio di poter essere messo in funzione più rapidamente, di arrivare subito a un calcolatore sicuramente funzionante che si può utilizzare subito, il partito del make ha il vantaggio che si acquisiscono, adesso si direbbe un know-how importantissimo che poi servirà sia per la ricerca che per l'industria italiana. Cosa succede che normalmente in Italia, quando ci sono due posizioni altrettanto buone che litigano tra di loro, si arriva alla decisione che non accontenta né l'uno l'altro. La decisione tipicamente italiana è quella di finanziare un centro elettronico per il calcolo presso l'IAC che ha il compito di studiare la possibilità di comprare o costruire, cosa che non vuol dire? È veramente italiana come situazione. Comunque con quello Piccone fa un altro paio di tentativi di mandare avanti dei progetti, adesso non c'entro perché andiamo un po' per le lunghe, però a un certo punto parte, c'è una cosa che stringe i tempi, non è che si può, un po' come Mattarella adesso, a un certo punto metterle un po' le strette, perché nel 51 l'UNESCO ha deciso di costituire in Europa un International Computing Center, quindi è una grossa struttura europea, è l'epoca in cui nasce il CERN e nascono tutti questi grandi consorzi europei per la ricerca, e dove nasce anche questo. Inizialmente l'Italia era esclusa come possibile sede, poi proprio per il prestigio che aveva anche internazionalmente l'IAC, soprattutto per l'appoggio degli informatici francesi, con cui collaboravamo molto, come sede viene scelta a Roma. A questo punto a Roma serve assolutamente un calcolatore. Poi questo centro incomincia ad avere i suoi primi problemi, perché inizialmente sembrava che avere un calcolatore fosse una cosa impossibile, una chimera per un piccolo stato, poi un po' alla volta ci si accorge che effettivamente col progredire dalla tecnica è più facile costruire un calcolatore, avere un calcolatore a magari anche piccolo a disposizione, e soprattutto non essendoci internet, perché non c'era internet, quindi era meglio avere un calcolatore in casa, piuttosto che mandare un proprio ricercatore dalla Finlandia fino a Roma per fare i calcoli e mettersi in coda davanti a un calcolatore unico. E quindi a questo punto un po' alla volta questo progetto si sgregola e morirà verso la metà degli anni 65, verso il 1965. Però in quel momento c'era questa urgenza. E quindi Piccone deve cedere, un po' la cosa, e decide di comprare questo calcolatore Ferranti, Mark 1 Star, prodotto dalla donna di Tingles, nonostante il nome è un po' simile italiano, che è un calcolatore abbastanza particolare. Le dotazioni le leggete di così, non le leggo voi, ma una RAM di 2 kilobyte, oggi come oggi fa l'ira, meno di 2 giga, non lo guardiamo neanche un cellulare, figuriamoci un calcolatore. La cosa curiosa e interessante è che il primo calcolatore che ha una RAM, e la RAM sono quei tubi, vedete quel tubo catodico che il tecnico sta infilando, nella fase di montaggio sta infilando dentro il calcolatore stesso. Le prestazioni sono minime, il peso, invece quello che è il massimo è il peso, 6 tonnellate, e il costo che sono circa 8 milioni di euro, che veramente vanno fuori dall'accuso attualmente. Adesso vediamo un po', qui dovrebbe partire un filmato, vediamo un po' se riesco a farlo partire. Grazie. Grazie. Questo è il giornale che annuncia l'arrivo del calcolatore agli inizi del 1955. No, palle. Come fai? E vabbè, niente. Quello che mi dispiace è perché era il filmato molto interessante perché si vedevano le fasi di installazione del calcolatore, arrivava dalle tecchie RAI e proprio si vede, abbiamo visto i tubi Williams, poi c'erano certe immagini che erano dedicate alle persone che sanno mettere le mani in un tablet, probabilmente qualcuno di voi, in cui si vede proprio un tecnico che è dentro nel calcolatore per fare tutti i collegamenti. Purtroppo non riesco a farlo partire. Amen. Vabbè, appunto diciamo questa cosa dell'UNESCO Computer Center. No, perché io continuo a andare. Vabbè, due parole sulla Ferranti. La Ferranti nasce da un immigrato friulano che si trasferisce in Scozia alla fine dell'Ottocento. Lui diventerà un famoso fotografo. Il figlio Sebastian sarà un importante ingegnere elettrico che metterà su questa zede che fa l'elettrificazione del Regno Unito. Quindi costruisce turbine, generatori di correnti, grandi trasformatori, grandi impianti, tralicci, posa i cavi un po' su tutta l'Inghilterra. È un'impresa veramente molto grossa e importante. Nel 30, More e Sebastian, la ditta viene presa da Vincent Ziani de Ferranti, che nel frattempo è diventato Sir, il nobile baronetto, che lo porta nell'elettronica, nei prodotti di consumo. Quindi la produzione di radio, stufette elettriche e prodotti per la casa. Quindi ha una grossa diffusione. Durante la guerra, alla fine della guerra, all'Università di Manchester, che sta a pochi chilometri dagli stabilimenti ferranti, viene sviluppato un calcolatore da parte dell'Università, di cui si occupano Williams e Kilburn per la parte hardware, e Diedrich Prince, che è il capo del software, e ci mette continuamente in naso un certo Alan Turing, che sicuramente avrete sentito nominare, per la decifrazione dell'Enigma. Di cui parleremo un po' in futuro. In alto vedete quella foto, e là in alto si vede Turing in piedi vicino agli altri due che stanno al centro di comando del Manchester Mark I. A questo punto Ferranti e Università di Manchester, il beneplacito del governo inglese, si accordano per produrre in serie questo calcolatore e metterlo in vendita. E Ferranti è in assoluto il primo calcolatore che viene prodotto per la vendita in serie. Quindi per avere più pezzi uguali da vendere e metterlo sul commercio. E' un altro primato del Ferranti. Il passaggio tra i due è ben sintetizzato da quella pubblicità che io trovo molto divertente, che ho ritagliato da un giornale inglese dell'epoca, in cui la Ferranti dice ma voi conoscete questo aggeggio qua in alto? Probabilmente sì, ma questo qua sotto non lo conoscete. E questa qua sopra è la nostra stupetta elettrica Safira che riscalda in sicurezza gli vostri appartamenti. E quello sotto è il calcolatore dell'Università di Manchester che risolve con l'assoluta sicurezza i più grossi problemi matematici e che su tutte e due c'è il marchio Ferranti. Segna quella pubblicità, segna un po' la conversione della ditta da un tipo di prodotto a un altro. Chiaramente abbiamo questo grosso calcolatore che non è il primo in Italia e il secondo che arriva in Italia ma è decisamente il più potente. Quei dati che avete visto sulle dotazioni del calcolatore sono circa dieci volte quelle del calcolatore che era appena arrivato al Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano viene messo in funzione alla fine del 54 il nostro arriva all'inizio del 55 i primissimi mesi del 55 e viene inaugurato ufficialmente a dicembre del 55 fondamentalmente le attività istituzionali sono fondamentalmente quelle di prima che si facevano prima con le calcolatrici meccaniche il calcolatore umano che faceva la parte dell'unità logica che non c'era sulle calcolatrici viene sostituito dal computer che ingloba sia la parte aritmetica che prima si faceva con la calcolatrice con l'unità logica che invece è tipica di un calcolatore e di una macchina di turi. Tra le cose che giravano sulla FINA c'è il modello econometrico della Banca d'Italia c'era molte collaborazioni con il CERN di fisica molti ponti, dighe e corregione ed anche molto importanti e la cosa più curiosa è il simulatore della CEP ossia a Pisa si stava sviluppando il primo calcolatore italiano che aveva costruito in Italia la calcolatrice elettronica pisana CEP e hanno chiesto all'IAC di sviluppare un simulatore in maniera da poter testare il software prima che la macchina fosse effettivamente pronta e portarsi avanti qualcosa e questo incarico viene svolto da Corrado Boehm che poi, rieganciandoci qua un po' a Torino è il primo che terrà un corso di informatica qua a Torino aveva già tenuto un corso di informatica all'Università di Roma e di Pisa però il primo corso di informatica a Torino è proprio di Corrado Boehm andiamo avanti però adesso, rieganciammoci un po' al tema della giornata insomma, incominciamo a giocare lo spiritello che c'è dietro ovviamente non c'è la console col telecomando però lo spiritello che sta un po' dietro a tutto è Alan Turing che appunto conosciamo per altre cose ma ritroviamo anche qui la prima cosa la prima particolarità è che sulla FINA c'è il primo gioco degli scacchi per un calcolatore questo parte da un'idea di Turing che nel 48 sviluppa un algoritmo per il calcolo automatico dalle mosse in un gioco di scacchi lo testa con un amico facendosi tutti i calcoli a mano che vuol dire che una partita di scacchi durava un mese però vede che è funzionante però non ha un calcolatore su cui implementarlo nel 51 Didric Prince che era il punto rispettabile del software della Ferranti lo implementa sul calcolatore Ferranti Mark 1 l'unico problema che ha Prince è che effettivamente due kilobyte di memoria sono decisamente poco e quindi non riesce a implementare una partita completa e implementa solo il problemino classico che troviamo sulle settimane enigmistiche sulle riviste di scacchistica del mattino in due mosse si parte da una situazione in cui si sa che si può chiudere in due mosse e bisogna trovare quella è la soluzione per dare scacco a mattino in due mosse appunto Prince davanti a una scacchiera si intravede qui in basso la console di un Ferranti la ragazza di dietro la collaboratrice di dietro sta inserendo un nastro perforato che è quello che fa calcolare la nostra seguente al calcolatore poi c'è un altro c'è un articolino simpatico c'è un articolino simpatico su scienza e vita con una rivista dell'epoca il cui titolo è il calcolatore preferisce giocare a dama che a scacchi e in effetti quello che succede è che questo altro tecnico di Manchester Christopher Stressi nel 51 incomincia a programmare realizza un programma per un gioco di dama il gioco di dama è più semplice come regola e come possibilità di evoluzione delle mosse e quindi lui riesce sul Ferranti a far girare un programma un gioco completo di dama e questo credo che sia anche questo il primo gioco di dama per computer quindi abbiamo un calcolatore che per la prima volta sa giocare un'altra cosa che fa questa volta poi ritorna a Turing e Turing lavora con Stressi per programmare un generatore di numeri casuali Stressi fa forse più la parte programmazione Turing la parte diciamo un po' innovativa più logica e poi dopo Stressi si trova che lo vuole testare in qualche modo vedere un po' come se funziona bene allora cosa fa prende un dizionario di termini romantici molto romantici fa con il generatore di numeri casuali piglia delle parole a caso dentro questo dizionario poi costruisce un piccolo algoritmo che assembla queste parole seguendo le regole della sintassi e della grammatica inglese che sono abbastanza semplici rispetto a quelle in italiano la cosa sarebbe stata molto più complicata e realizza un programma che si chiama Love Letters Love Letters che appunto scrive lettere d'amore questa qui è un simulatore che gira che è stato realizzato di recente su un computer moderno quindi c'è tutta questa parte grafica attorno che non ovviamente sulla FINA che non c'era e questa qui ho ingrandito la parte della lettera d'amore prodotta dal calcolatore credo che questo sia forse il primissimo esempio di testo composto automaticamente da un computer Dear Love my heart seeks for your love caro amore il mio cuore spasma per il tuo amore il mio desiderio stimola i tuoi appetiti e la mia infettura vado lascia a parlare tu appassionatamente la firma è MOOC che non è uno pseudonimo ma è una sigla che sta per Manchester University Calculator e allora quando riuscivo a ottenere delle lettere d'amore particolarmente belline le ritagliavo e le appendevo nella bacheca dell'istituto e da lì dalle love letter passiamo a quello che ci può anche interessare di più è la musica e anche qui c'è sotto un po' lo zampino di Turing il quale ne scrive il primo manuale del calcolatore di Manchester fa notare che c'è un'istruzione hoot con dei parametri che permette di fare in mente la calcolatura dei suoni giocando con i parametri si possono ottenere le note musicali questo è il primo esempio di come si possa fare la prima notazione di come si possa fare musica con un computer la cosa non viene sfruttata subito a Manchester perché da Manchester passano due ricercatori australiani che stanno sviluppando il primo calcolatore australiano il CSRI che sta per centro scientifico di ricerche australiano e appena tornano in Australia implementano l'istruzione hoot sul loro calcolatore e i primi motivetti sono dati da calcolatore però di questi non è rimasta traccia sappiamo c'è una documentazione che l'hanno fatto ma non c'è una registrazione invece Prince subito dopo realizza la stessa cosa sul Ferranti e di questo la BBC ha conservato una registrazione che trovate su internet vi faccio qualche pezzettino da qui sempre che riesca a farlo partire speriamo che l'audio parla va bene poi ci torniamo su dopo adesso il l'ultimo passo per avere qualcosa di veramente completo sul gioco in campo musicale è far comporre una musica al calcolatore quindi il calcolatore a questo punto sa eseguire una musica ma non sa ne ancora fare una composizione e l'idea parte qui parte da molto 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 lontano parte dalla musicalicia bullspill la pronuncia inglese è terrificante che significa gioco di dati musicale era un'idea di Mozart che aveva creato questo gioco in cui si parte da una base musicale di un centinaio di battute dato dal musico di corte o dal direttore di corti austriache si parte da questo poi il principe o i vari cortigiani tirano a turno dei dadi e utilizzando il risultato casuale di questi dadi c'è una regola matematica per stabilire come continuare la musica quindi a turno ognuno tira si va avanti un pezzettino per volte e finché poi il il mastro il musichiere di corte esegue tutto il prezzo completo con la gioia di presente che un pochettino probabilmente l'aveva aggiustato lui quello bisogna darlo un po' per scontato a questo punto a Manchester hanno tutto perché hanno l'istituzione Hoot che fa la musica che emette i suoni musicali hanno il generatore di numeri casuali di Turing e di Turing che sostituisce i dadi a questo punto assemblano le due cose e possono hanno il gioco di modern tutto sommato in termini moderni è un algoritmo perché sono regole matematiche da seguire quindi è un algoritmo che un calcolatore può benissimo implementare assemblano tutto e il lavoro di assemblare il blagio viene fatto da Prince e un certo Kaplan che lavorava per la scella olandese dove avevano comprato un calcolatore Ferranti e quindi lavorando un po' in comune tra i due riescono a sviluppare questo gioco questa possibilità di creare musica con il calcolatore i risultati dell'epoca credo che non fossero entusiasmati almeno così quei pochi testimoni superstiti che ho sentito mi hanno detto che non erano proprio il massimo oggi come oggi se andate su youtube e cercate qualcosa tipo mathematical Mozart computer composite music trovate dei pezzi fatti con un algoritmo molto simile quindi ripigliando il gioco dei dadi di Mozart per realizzare una con cui realizzano delle musiche poi scelgono le migliori delle volte anche abbastanza gradevoli chiaramente adesso ci sono a disposizione tutti i toni mezzi toni insomma la musica su computer di mp3 ci hanno insegnato un sacco di cose che a quell'epoca non si conoscevano nessuno un'istruzione hut che era abbastanza povera a questo punto abbiamo un calcolatore che fa veramente un po' di tutto una domanda di 8 tonnellate di roba cosa è rimasto sono rimasti questi due gecini piccoli questo qua in altro è un correttore di nastri perforato che mi ha lasciato un vecchio tecnico fondamentalmente siccome i dati i dati i programmi venivano introdotti con un nastro perforato se c'era un errore di perforazione si infilava il nastro in questo giochettino che ha queste dimensioni in grosso modo e poi con quella specie di cacciavite si praticava il foro dove mancava se bisognava sostituire un pezzo si tagliava e si aggiungeva e poi si facevano tutti i fori necessari nell'intermezzo e poi l'altro reperto che costituisce un vecchio tecnico dell'istituto e che non molla speriamo prima o poi di convincere a regalarlo all'istituto è il nastro che eseguiva l'Aida sul calcolatore sulla Finac questo qua è il nastro perforato originale qua si legge da qualche parte l'Aida dovrebbe essere qua la scritta l'Aida è il programmino originale che seguiva l'Aida quelli segni rossi che vedete era questo segno rosso qui e questo qui era uno speciale nastro adesivo che non sbavava che era molto sottile che serviva proprio per fare l'aggiunzione del nastro senza che poi inceppasse il lettore di nastri questo qua è un altro filmato ve lo faccio vedere poi a parte perché se no se cerco ancora di farlo partire così consigli per gli acquisti questa qua è una pubblicazione dell'istituto che trovate un po' in tutte le nelle fumetterie non dovete cercarlo nelle biblioteche serie in cui il direttore si è messo d'accordo con dei grossi ottimi disegnatori di fumetti e ci sono varie edizioni i vari numeri che sono usciti questo qua l'ho messo più piccolino perché quello meno consigliato è uno dedicato un po' alla storia del calcolo automatico che è stato pubblicato l'anno scorso ce ne dovrebbe essere giù uno nell'esposizione una copia se volete darci un'occhiata questo qua è l'ultimo numero che è venuto uscito che è dedicato invece alle donne in matematica poi a questo punto direi se non vi siete addormentati troppo grazie per l'attenzione e se c'è una qualche prova a parte perché se andiamo da qui un po' a parte oppa che memoria. La nostra macchina ne ha due, una principale che può immagazzinare 5.000 cifre decimali e una ausiliaria che arriva a 200.000 cifre. Si preparano le cosiddette istruzioni da trasmettere alla macchina secondo un determinato programma di calcolo che essa dovrà compiere. Ci si serve di una specie di linguaggio cifrato tradotto nei fori e negli spazi di un comune nastro da telescrivente. La macchina raccoglie i segni che a seconda della loro posizione o ripetizione significheranno numeri e istruzioni, trattiene i numeri nelle sue memorie e opera su di essi seguendo il programma prefissato. L'officina dei numeri si trova presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno strumento pratico. La matematica pura può risolvere alti problemi in linea teorica. La calcolatrice porta ad applicarli, come avviene ormai su larga scala degli Stati Uniti, in tutti i campi della tecnica e dell'industria, a vantaggio della nazione intera. Ecco il quadro centrale di comando. Il nastro perforato scorre, la macchina lo sta leggendo e intanto uno schermo televisivo mostra con gli stessi segni convenzionali le informazioni subito raccolte nelle valvole della memoria. I risultati parziali e totali vengono registrati da un apparecchio di scrittura. Calcoli che richiederessero l'applicazione di due uomini per un anno vengono risolti in poche ore. I congegni lavorano fra suoni misteriosi che opportunamente manipolati possono divenire anche orecchiabili. Ascoltate, non è che uno scherzo, si capisce. Fortunatamente la calcolatrice elettronica non si lascia turbare nel suo lavoro che è al servizio di tutti per la buona riuscita di altro lavoro. Un esempio, fra le opere compiute dalla Cassa del Mezzogiorno, il calcolo della costruzione di tutte le dighe è uscito da questi congegni. La scienza si è foggiato lo strumento per spingere oltre le capacità del meccanismo umano le conquiste del progresso. Avvertezza finale, il filmato è dall'archivio centrale dello Stato, ce l'ha in custodia, però ne ha messo una copia su YouTube, che potete vedere un pochettino meglio di quello che si che si fa. No, non ce l'ho, accidenti. Vabbè, anche la registrazione della BBC, cercate su internet, Fist Computer Music, riuscite a trovarla. Potete anche partire dalla pagina di Wikipedia dedicata al Ferranti Mark 1, in fondo tra le citazioni c'è proprio un puntatore. Ferranti Mark 1, invece per trovare il filmato bisogna cercare l'officina dei calcoli. Viene fuori un cinegiornale, che era quello che si trasmetteva prima dei film nelle salle cinematografiche fino agli anni 50 e 60, con diversi servizi. Il primo servizio è dedicato a un museo degli ombrelli, il secondo servizio è dedicato proprio alla FINAC. Il terzo non mi ricordo cosa sia. Altre domande? Il terzo non mi ricordo cosa sia. Grazie a tutti